E voi siete il team? Crew, social media manager. Fabio, produzione. Ciro, videomaker. E io, project manager. Aurora. In cosa state lavorando in questo momento? Io non sto lavorando in questo momento. Qui, logicamente, non ti occuperai dei pesci in borsi dell'industria. Il motivo di questa riunione è che devono cambiare un po' di cose. Non abbiamo mai usato un'influenza. Posso diventare come cabbi lame. Ma perché siamo complicati? La responsabilità di questo casino è vostra, quindi la soluzione la trovate voi. Ma che c'è no? Guardi, noi ci capiamo, killer. Ma hai qualche idea per lo spot? Che spot? Sei vinto, maledetto! A volte questo ufficio mi sembra un asilo amido. Siamo amici di Pisello. Buona! Comunque noi qua, che cosa le facciamo insieme? Cioè, a volte sono le mie patate, però comunque le facciamo insieme. Lo sai che giorno è oggi? No. Il giorno in cui ti puoi fare i cazzi tuoi? Impossibile, era ieri. No.